Forza Genoa, inascoltata invocazione, nove minuti sono sufficienti all'Inter per vincere la partita, Vink scarsa in vernici e Bonetti segna a porta vuota, pane e recriminazione, non era fuori gioco, tre minuti dopo i genoani perdono ogni speranza, Vink straversa e scoprono in sacco, è proprio il caso di mettersi le mani nei capelli, passano altri venti minuti e il biondino oggi scatenato segna il terzo gol, che dal 3 a 0 si passi al 3 a 1 con questo gol di testo segnato da Melberg a 12 minuti dal riposo non significa nulla, al quarto d'ora della ripresa ancora Scoglum scattando anche il portiere mette a segno il quarto gol, basta basta sembra voglia dire con la sua vana solitaria protesta all'amareggiato tifoso genoani, la bagliera che strisce nelle mani non è più un simbolo ma uno stelacchio, comunque il gesto è servito a scuotere il rosso blu, altro gol di Melberg a metà della ripresa, ma Vink non ha finito, ecco che segna la quinta rete, adesso lo diciamo noi, forza Genova, forza per tornare a Giupetti in Serie A.